Allora ci colleghiamo subito col satellite, con la località segreta dove risiede tutte le notti Cinzia Poli. Prego la regia di far partire il collegamento, grazie. Sì, buongiorno, oggi abbiamo le News for Dummies, notizie per uomini duri. I due Marò ancora detenuti in India dichiarano, siamo soldati italiani, dobbiamo soffrire con dignità. Sottolineare che non si riferivano all'imminente incontro con Casini. Forse non era minorenne. Un ministro marocchino ha conservato il file della nascita di Rubi perché aveva paura che venisse falsificato. Chiarire che intende prima dell'adeguato compenso. Il fisico Stephen Hawking ci ripensa, l'informazione non può solo entrare ma anche uscire da un buco nero. Chiarire che da un bel po' che non c'è più il TG4 di fede. E adesso se la regia manda in onda le immagini... La De Girolamo accusa il suo partito. Alfano è fortunato che suo zio non vuole fare il vice premier. News for Dummies!